Lo tsunami abbattutosi sul Giappone, che ha provocato morte e distruzione, ha portato la ISU, International Skating Union, a decidere di cancellare i mondiali di patinaggio artistico di figura su ghiaccio. La rassegna ridata si sarebbe dovuta svolgere a Tokyo nel periodo dal 21 al 27 marzo. Carolina Kostner, una delle sicure protagoniste dell'evento, ha voluto comunicare la propria vicinanza alla popolazione giapponese in un momento tanto difficile. I nostri cuori e le nostre preghiere, scrive la campionessa gardenese, vanno alle vittime e alle famiglie coinvolte nel terremoto e nel tsunami. Non ci sono parole per descrivere questa tragedia. Tenete duro, mandiamo il nostro affetto e supporto alla popolazione giapponese, augurando loro tanta forza e coraggio in questo momento difficile.